A Ravenna 2012, secondo giorno, siamo con Antonio Pergolizzi, gradito ospite. Ieri abbiamo avuto Raffaele Cantone, è stata una presenza importante, ha dato un segno, ha parlato anche di dati. Tu di dati ne conosci, perché comunque sei responsabile del rapporto e Comafio per Lega Ambiente, 16 miliardi di euro di fatturato di attività dolose. È possibile? Sì, diciamo che la stima è anche approssimata per difetto, non si riescono ad includere molte voci, quindi sicuramente è una stima approssimata per difetto. Circa 7 miliardi di euro soltanto in ciclo legale dei rifiuti e soltanto considerando le inchieste di cui abbiamo conoscenze, quindi semplicemente prendo una stima, che sicuramente è una stima approssimata per difetto. L'ecomafia purtroppo è un fenomeno nazionale, non è assolutamente un fenomeno locale, quindi non è circoscritto ad una regione o semplicemente a una sfera di tipo mafioso. È un fenomeno oramai globale, quindi interessa tutto il paese con una proiezione sempre più internazionale, anzi è tipicamente un fenomeno economico, di economia di rapina, che mira sostanzialmente a privatizzare un bene collettivo che è l'ambiente a scopi privati. I settori nei quali la criminalità ambientale, perché è più corretto parlare di criminalità ambientale, sono i più svariati, quindi dal ciclo legale del cemento, dal ciclo legale dei rifiuti, ma anche raghe di animali, archeomafie, furti d'acqua, incendi, agromafia. Quindi l'intero spettro dell'illegalità ambientale, che ogni anno sicuramente saccheggia l'ambiente, uccide bellezza, mina pesantemente la salute dei cittadini e si fa forte del fatto che per i rati ambientali si considerano sempre rati senza vittime ben definite, perché anche la difficoltà di poter individuare le vittime, come nei casi di inquinamento da rifiuti, sicuramente ha dato una mano ai criminali ambientali. Anche questo è alla causa di una normativa ambientale che è ancora carente sotto tutti i punti di vista, una normativa che non è assolutamente, non ha nessuna capacità deterrente, che sicuramente prevede delle sanzioni ridicole, parliamo soprattutto di piccole contravvezioni che fino ad oggi hanno garantito la sostanziale impunità, fatta eccezione per l'unico delitto ambientale che è il traffico organizzato di rifiuti, che sicuramente ha dato dei risultati straordinari e se oggi possiamo conoscere il vero volto dei trafficanti di rifiuti, che è un volto essenzialmente imprenditoriale, con il coinvolgimento di pezzi delle istituzioni, dei soliti professionisti e grazie a questo delitto ambientale che fino ad oggi è stato contestato circa in 200 inchieste e ha portato all'arresto di migliaia di persone, alle denunce di altrettante, su tutto il territorio nazionale, perché facendo la conta delle procure che sono state coinvolte in queste inchieste, c'è una sostanziale parità tra regioni del centro, del nord e del sud. Senti, domani è un altro momento importante, parliamo di rifiuti con Lorenzo Pinn, con te, con Newman, un appuntamento importante direi tra tecnologia, sociologia, come vogliamo introdurre questa conferenza? Sì, sono stato particolarmente sorpreso positivamente della possibilità di poter incontrare non solo Newman ma anche Lorenzo Pinn, io ho scritto un libro Toxic Italy che cerca di mettere a sistema le patologie che riguardano il ciclo dei rifiuti e proprio scrivendo il mio libro mi sono imbattuto anche nel libro di Lorenzo Pinn che fa un'analisi che da un certo punto di vista è simile alla mia, cioè guardare il mondo dal di sotto, dalle fogne, guardare il mondo dalla parte degli esclusi, degli scarti ed è una prospettiva sicuramente nuova nell'osservare anche l'evoluzione sociale, politica, culturale di un paese. L'analisi che fa lui nel suo libro è uno degli aspetti cruciali del libro, appunto dice che la grandezza dell'umanità deriva più da chi ha inventato le fogne, il sistema fognario e gli acquedotti rispetto a chi invece ha costruito per esempio monumenti, quindi diciamo siamo abituati più a considerare la grandezza delle gesta di eroi che hanno conquistato le terre, paesi eccetera, piuttosto invece chi ha portato un contributo fondamentale nella civilizzazione dell'umanità grazie appunto a queste scoperte come la fogna, come l'acquedotto. Quindi considerare i rifiuti come un problema da risolvere inizialmente e poi oggi come una risorsa sicuramente sono due approcci identici che aiutano in qualche modo a guardare alla questione dei rifiuti in un'altra angolazione. Purtroppo fino ad oggi un tare culturale, come dicevo prima, che si sono proiettate anche in campo legislativo, fanno sì che considerano i rifiuti come semplicemente un problema, qualcosa da allontanare più possibile dalle comunità. Mentre i rifiuti sono una straordinaria risorsa, sono uno dei pochi settori che consente di far andare avanti la produzione, creano posti di lavoro e sicuramente eliminano con una gestione sana e efficiente a partire da raccolta differenziata, a partire da politiche di riduzione e di riutilizzo, anche la rieminazione di conflitti sociali. Le discariche stanno diventando una delle ragioni più forti dei conflitti sociali. Quindi vedere i rifiuti come una risorsa e vedere alla grandezza di chi ha considerato i rifiuti storicamente come una questione da inquadrare anche da un punto di vista scientifico e da risolvere sicuramente sono due approcci molto simili che ci aiutano a capire meglio questo mondo strano dei rifiuti che fino ad oggi è stato relegato lontano anche dalle discussioni accademiche, scientifiche e quant'altro. La discarica è stato il luogo dove si è potuto dimenticare dell'esistenza dei rifiuti. Purtroppo il mondo si fa sempre più piccolo e questi rifiuti adesso come un boomerang ritornano, un po' come aveva profetizzato Calvino negli anni 70. Grazie, quindi perfetta introduzione per la conferenza di domani, domani pomeriggio. Quindi Ravenna 2012, fare conti con l'ambiente con Antonio Pergolizzi. Grazie. Grazie a voi, ciao.